Anna Tatangelo insieme a Giovanni Caccamo? La sua risposta al veleno Giovanni Caccamo e Anna non stanno insieme, le parole della Tatangelo. Anna Tatangelo in seguito all'ennesimo gossip che la vuole fidanzata con Giovanni Caccamo, ha perso le staff e ha pubblicato un post al veleno sui suoi social. L'ex compagna di Gigi D'Alessio ha infatti caricato sul suo profilo Instagram lo screen di un articolo che inizia affermando che il cuore di Anna starebbe di nuovo battendo per una nuova persona. In seguito alla crisi con il cantante napoletano, il cuore della Tatangelo potrebbe battere per il giovane cantante nato artisticamente a Sanremo, bisogna sottolineare che l'articolo ha precisato che non dà per certa la loro relazione, tuttavia ha rivelato che ci sarebbe una forte intesa tra i due, come mostra l'immagine che noi vi abbiamo postato come immagine profilo. La Tatangelo è diventata furiosa in seguito a questa ennesima news in rosa infondata, e ha scritto nella didascalia dell'immagine quanto segue, un consiglio e questa settimana un euro usatelo per offrire un caffè ad un amico. Ciao! 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 Ciao!